Comuni e regioni potranno ora far sentire in maniera inequivocabile la propria voce nel contrasto al gioco d'azzardo. A definirlo è il Ministero dell'Interno che, con una recente circolare, ha stabilito che le questure, al momento del rilascio di una licenza per l'apertura di un centro scommesso, di un videolotteri o di un bingo nel proprio territorio, dovranno tener conto anche della disciplina regionale e locale. Diventa così imprescindibile anche la norma della regione Emilia-Romagna che prevede il divieto di aprire sale da gioco a meno di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, gli spazi di aggregazione, in particolare quelli frequentati da giovani, come scuole, oratori, strutture ricettive per categorie protette e impianti sportivi. E proprio sul tema dello sport l'ippodromo di Cesena continua a vivere nel paradosso, con il rischio di ingenti danni alla propria attività. La struttura è infatti per sua natura al contempo impianto sportivo e centro scommesse frequentato da famiglie, e da bambini. Prosegue dunque il ricorso al Consiglio di Stato della società che lo gestisce. In base alla circolare ministeriale saranno i comuni a procedere con il controllo delle dichiarazioni dei privati sul rispetto delle normative. Qualora mancassero i requisiti, le questure negheranno il rilascio della licenza. A Rimini le aree di rispetto dei 500 metri sono state messe nero su bianco nel dicembre scorso dalla mappatura dei luoghi sensibili che promuove il trasloco di tutte quelle sale da gioco troppo vicine ad essi.